Cicoria in padella è la ricetta della nonna pronta! Metti un po' di acqua in una pentola capiente e la fai bollire. Aggiungi mezzo cucchiaino di bicarbonato e aggiungi la cicoria lavata e pulita. Copri e la fai cuocere circa 10 minuti. Una volta cotta la andiamo a scolare. Il trucchetto del bicarbonato servirà ad accentuare il verde e sarà meno amara. Metti in un piatto la cicoria e la fai raffreddare. Una volta raffreddata ed evaporata l'acqua la andiamo a ripassare in padella. Metti abbondante olio in una padella. Aggiungi aglio tritato e peperoncino. Fiamma bassa fa insaporire e aggiungi la cicoria. Aggiusta di sale, fiamma media e fai cuocere circa 10 minuti. Dopo circa 5 minuti la giri. Abbassi la fiamma e la fai cuocere altri 5 minuti con il coperchio. Buonissima!